eccoci cos'è questo rumore che ti avevo messaggio? è una di buono scorlarie, penserebbe tornare giù a luca piace, a luca piace andare in canto luca vuole dormire luca è stanco ha fatto una bella canzone sotto si si luca è un po' censura non censura il mormonico stiamo proprio andando proprio in rosslemburg una cricca di ufficiali stupidi stupidi ambizioni hanno tentato molto la cucina è in grillo non so è un po' censura e non so non so non so ma è un po' censura non so è un po' censura in quanto è molto non so non so a ora faremo i conti come noi siamo capati in modo ho detto praticamente però faremo i conti come noi siamo asseriti guarda che vuoto che c'è un strapiombo guarda quella casetta è ancora una mia guarda sei da tavola del lupo hai visto quella barca a sinistra con tre alberi fantastico eh dai domanderò come l'intervento se il chiuso e il cario la risposta sarà si allora mi rifiuto e dirà troppo tardi manco una scusa per denunciarlo esatto guarda che bella piscina che gasto va è proprio di fronte ora 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 ora